Musica Teniamo presente che in 20 anni siamo riusciti a imporre un marchio A noi le sfide non ci fanno paura, continuiamo a essere presenti sul mercato, abbiamo nuovi motori da lanciare Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti anche Come il primo giorno del salone nautico già abbiamo avuto una forte affluenza Quindi la gente crede ancora nella nautica, vuole ancora andare per mare E questo per noi è una cosa molto importante per il nostro futuro e per il futuro di tutta l'azienda Musica Con l'inaugurazione del nuovo centro direzionale dell'azienda dove c'è la parte amministrativa e commerciale E cosa molto più importante, il centro ricerche per l'evoluzione di tutta la nuova gamma marina Musica Tanto che siamo arrivati alla presentazione del nuovo 300 cavalli Che adesso è la nostra punta di diamante in tutta la gamma marina Musica Proprio l'azienda ha questi propositi, di continuare a investire nel futuro E con giovani tecnici, giovani ingegneri, proprio questa la volontà di andare avanti E di cercare di dare sempre nuovi prodotti, sempre tecnologia avanzata Prodotto italiano E questa è una cosa per noi veramente fondamentale Cercare di spingere il prodotto italiano per le nostre maestranze Per avere sempre il futuro roseo Musica Abbiamo già sviluppato il nostro ibrido che deve essere certamente la propulsione del futuro Cosa che già sta andando molto in voca sulle grandi navi e grandi barche Noi l'abbiamo proposto con la nostra motorizzazione per anche le barche piccole Partiamo dai 6 metri, 7 metri dove certamente con l'avvento di queste aree protette marine Sarà indispensabile avere la propulsione ibrida per poter navigare in zone che per la natura devono essere protette Musica E' un consumo bassissimo, chiaramente uscito fuori dall'utilizzo del common rail di ultima generazione Quindi siamo sicuri che questo motore E speriamo che veramente la clientela creda in questo prodotto italiano Di cui siamo veramente fieri I motori FNM sono molto più leggeri, compatti e brillanti che i motori marini tradizionali Sono bilanciati e silenziosi, altamente affidabili in ogni condizione di impiego E veramente contenuti nei consumi FNM, un'industria tutta italiana, all'avanguardia La risposta più intelligente alle richieste della nautica moderna Grazie a tutti! Grazie a tutti.